ben trovati davide il critico oggi pagellanze pagellanze di bologna napoli 2 a 2 un punto che è inutile negarlo cià lontana da quell'ottavo posto che quest'anno significa europa molto probabilmente un punto che arriva in modo rocambolesco perché i due gol del napoli li regaliamo noi a una squadra già campione d'italia se gli regali anche due gol non è che la metti proprio nei binari corretti giusto lucas giusto musa quindi male molto molto male questo per quanto riguarda invece la filosofia di gioco di questa squadra mi rende orgoglioso perché dall'inizio alla fine abbiamo cercato di giocare a calcio sì gli errori ci sono stati errori tecnici per lo più però i giocatori non hanno mai perso la fiducia nella loro identità e io questa è una cosa che apprezzo veramente tanto comunque siamo qua per fare le pagellanze prima ti ricordo di iscriverti al canale mettere mi piace al video e di andare su instagram a seguire la pagina davide il critico parliamo di lucas parliamo di lucas un portiere che quest'anno fa delle prestazioni incredibile ma che con napoli fa un errore veramente grave veramente molto molto grave fa anche delle belle parate nella giornata di ieri ma quell'errore è impossibile che non influisca nel voto io gli devo dare per forza 4 e mezzo la stagione rimane di alto livello l'errore molto molto grave difesa bonifazi 5 e mezzo troppo lento troppo lento sembra che giochi con sto specchio che si guarda tutto il tempo più operaio e meno star più operaio e molto molto meno star non c'è alcun motivo per cui devi essere una star quindi molto molto più operai bonifazi 5 e mezzo lucumi di fianco a lui 6 fa una partita buona se skorupski non regala il pallone e musa non fa partire in contropiede il napoli altre occasioni in cui ho visto lucumi troppo in difficoltà non le ricordo gli do la sufficienza terzini da una parte posh giocatore fondamentale per questa squadra gli do un 6 e mezzo buona prova ha una struttura una solidità da terzino che può veramente giocare anche in un contesto europeo dall'altra parte cambiaso anche lui do 6 e mezzo perché comunque sia comunque sia dopo una stagione di tanti bassi col napoli ho visto un giocatore propositivo che anche rischiato di fare gol quindi molto molto bene che cambiaso gli dò 6 e mezzo non mi è dispiaciuta la sua prova i limiti ci sono però però la sua gara col napoli mi è piaciuta 6 e mezzo centrocampo il reparto probabilmente che ha dato maggiori gioie e che dà anche maggiori garanzie a questa squadra scout 6 e mezzo buona gara nico dominguez 7 se avesse fatto gol gli avrei dato 15 perché il giocatore che ieri gioca non merita due milioni di ingaggio ne merita 50 di milioni di ingaggio partita strepitosa lotta come un guerriero va sempre a cercare di prendere il pallone anche quando è fuori dal rettangolo di gioco per partire immediatamente con la nostra stazione vuole vincere dominguez è il giocatore che ieri voleva vincere di più quindi nico 7 partita meravigliosa ferguson anche lui 7 gol di vitale importanza lì in mezzo è il solito guerriero che io voglio squadra con me quindi nico 7 ferguson 7 scout 6 e mezzo partiamo parlando della fase offensiva perché ebiscer ormai fa parte un po della fase offensiva e gli dobbiamo dare un 5 e mezzo tendente al 5 anche se vogliamo è perché la sua prestazione non mi ha fatto impazzire cioè è inutile negarlo quando il pallone cascava vicino al 20 sapevi che qualcosa di magico non sarebbe accaduto per niente ma neanche qualcosa di scolastico ebiscer è il giocatore che ti dà quell'equilibrio senza palla ma con la palla è un pesce fuor d'acqua completamente fuor d'acqua d'altra parte musa come si dice a bologna ti belli rot e poi non vado oltre sono un po stanco spero che quest'estate sia un modo per dividerci ti voglio bene ottimo ragazzo molto bene quegli errori non sono da un giocatore che può ambire a palcoscenici superiori rispetto a quello che può fornire bologna e io vorrei che quest'anno fosse un trampolino per l'anno prossimo nell'anno prossimo non vedo musa come un giocatore che possa fare il titolare in questa squadra quindi io spero che venga monetizzato più presto io non gli posso dare un voto diverso dal 4 molto inconcludente socca dei piedi fenomenali il rischio di poterlo rimpiangere come qualità tecnica c'è secondo me c'è però basta dopo un po basta e voglio concludere così dicendo basta ci vediamo a lecce e probabilmente lecce potrebbe essere l'ultima volta che ci vediamo e secondo me la successione non è solamente nella mia testa per quanto riguarda centro avanti marcone giornata 9 ti do 5 tre occasioni e tutte e tre le abbiamo abbiamo fatto cilecca male molto male ieri rimane un giocatore di un alto livello sponde qualità tieni la palla come la proteggi tu non la protegge nessuno vorrei essere protetto da arnautvic tutti i giorni come tu proteggi il pallone però però la prestazione di ieri è da 5 chi è entrato dalla panchina ha cambiato le sorti della gara e va elogiato sansone va elogiato sansone va elogiato veramente tanto con un 7 con un 7 peccato per i gol in fuorigioco la sua stagione soprattutto il finale resta di altissima qualità quindi io a nicola sansone do 7 e dico un'altra cosa riflettiamo sul rinnovo riflettiamo molto bene sul rinnovo perché sembra un giocatore dati a gomotta gli altri che sono entrati dalla panchina zirze 6 facesse anche l'attaccante sarebbe un sogno però ci limitiamo a leziosità che a volte ripeto sono molto utili altre nocive perché rallentano il gioco in una maniera clamorosa gli altri che sono entrati dalla panchina sono moro 7 da a questo punto mi contraddico rispetto a qualche volta fa che vi dicevo che avrei riflettuto sul tenerlo o meno questo moro lo voglio giova questo moro lo teniamo noi facciamo in modo di tenerlo per favore moro 7 quando entra non entra mai male in gara mai e quando inizia sempre con la testa giusta a parte magari qualche uscita ma pochissime rispetto alle prestazioni positive pochissime medel 6 e mezzo entra con la mentalità del capitano del cile lo dimostra grinta forza e alla grande gary medel 6 e mezzo de silvestri 7 e mezzo migliori in campo entra con esperienza intelligenza astuzia ma soprattutto fa gol il gol del 2 a 2 il gol che probabilmente lo saluterà non so cosa farà l'anno prossimo non so se verrà rinnovato comunque a lollo si può dire solo grazie per questi anni passati nella nostra squadra e nel nostro ambiente de silvestri 7 e mezzo parliamo di tiago parliamo di tiago perché io gli sto per dare un voto che magari qualcuno di voi lo criticherà visto il risultato visto i tanti errori della squadra al primo tempo io credo che tiago motte ieri abbia battuto spalletti alla grande so che spalletti non si giocava nulla praticamente ma io tiago do 7 do 7 perché sono felice di essere arrivato in fondo a questo campionato col mio bologna con un'identità precisa che a volte come a torino ci ha fatto arrabbiare altre volte come a bergamo ci ha fatto gioire e col napoli mi ha reso orgoglioso nel vedere come il progetto tiago motte il progetto bologna abbia pur con delle difficoltà iniziali dimostrato che alla fine può portare risultati importanti quindi io a teo motta gli do 7 ragazzi ci vediamo a lecce per chi riuscirà a venire è l'ultima gara siamo ancora qua a lottare e io sono felice di questo l'ultima giornata io difficilmente ma comunque ho l'opportunità di andare all'ottavo posto e quindi in europa molto probabilmente il san ne approfitto anche per salutare l'abbonato marelle che è stato fatto la scorsa bf cini cruciani quindi il ragazzo che si chiama cruciani io lo saluto gli faccio un grande applauso lo ringrazio per aver fatto l'abbonamento marelle quindi vi ricordo di iscriverti al canale mettere in piace il video e non da su instagram a seguire la pagina davide il critico